Tre serate per questa settima edizione con l'apertura venerdì 4 agosto dedicata al brigantaggio abruzzese con la presenza di Mario Cimini, docente della D'Annunzio, direttore della collana brigantaggio della casa editrice Rocco Carabba e Elsa Flacco, autrice del romanzo Un palmo e mezzo sottoterra. Si proseguirà con altri interventi il giorno successivo con Valentino Romano, Vincenzo Guli, Vincenzo D'Amico Editore e poi la presenza di Magdi Allam che è un po' il fiore all'occhiello di questa settima edizione. La domenica altri interventi con Massimo Carulli, autore di Tumas e Abbasso la Lega Nord, primo fumetto tratto da un'opera teatrale e poi l'intervento di Luigi Iannone, giornalista del giornale, che parlerà di un volume, del suo ultimo volume, L'Ubbidiente Democratico. Tre serate, tre giornate all'insegna della storia con mostre di pittura sugli abiti briganteschi, con persone che arriveranno un po' da tutta Italia e accampamenti briganteschi e dei militari borbonici che potranno essere visitati gratuitamente come ogni anno con la guida di un personaggio d'eccezione che è il direttore dell'archivio di Stato di Chieti, il dottor Antonello De Berardinis. Questa è la settima edizione ed è un crescendo di anno in anno, oramai è un appuntamento consolidato nella nostra città ma dell'intera regione Abruzzo, quindi veramente un gran ringraziamento agli organizzatori perché portano la nostra città ad essere un riferimento.